Civil Week 2024, siamo a Legnano in compagnia di Monica Bernanasca, Assessora alla Quotidianità del Comune. Grazie e benvenuta, anzi siamo noi a dover ringraziare voi. Dove ci troviamo? Buongiorno a tutti, ci troviamo nel bellissimo parco della nostra biblioteca comunale, Augusto Marinoni e siamo qui per la giornata della Civil Week, soprattutto per pubblicizzare, tra virgolette, e far vedere ai nostri cittadini i patti di collaborazione che già da un anno abbiamo istituito con alcuni cittadini. Qui possiamo già vedere nei pannelli alcuni patti che abbiamo firmato, tra virgolette, sono dei momenti in cui i cittadini si prendono cura della nostra comunità e perciò di parchetti giochi, piuttosto che del parco Castello, piuttosto anche di piccole aree dove viene fatta la pulizia dell'area, magari in momenti straordinari. È anche un momento di inclusività perché alcune delle associazioni che si sono iscritte sono associazioni del sociale e che perciò con ragazzi disabili piuttosto che persone con fragilità. E niente, questa è la nostra giornata, siamo qui anche a fare un po' di scambio di semi, talè, faremo un momento anche di lettura per i bambini ed è bello perché è una festa anche per tutti i volontari che gratuitamente si mettono a disposizione della comunità. È la prima volta che partecipate alla Civil Week? No, non è la prima volta, ma è la prima volta che lo facciamo con i patti di collaborazione, anche perché quest'anno ci sembrava proprio che fosse calata proprio sulla nostra comunità perché è proprio fatta per la collaborazione con i cittadini, perciò questo arrivava proprio ad hoc, non potevamo mancare. Quindi se in chiusura volessimo dire quali sono i valori della Costituzione che dal titolo a questa edizione che voi mettete in pratica grazie insieme al volontariato e con i patti di collaborazione, cosa direbbe? Ci siamo proprio nel senso che siamo proprio nel valore grande che è quello della Civil Week di quest'anno. Grazie, buon lavoro e buona Civil Week!